Michele Ottino è il direttore del Parco Alpicozzi, territorio della città metropolitana di Torino. Cosa significa partecipare a questo live dedicato al tema del lupo, ma insomma alla biodiversità? Beh, significa innanzitutto cercare di rendere compatibile la presenza di questo predatore con il territorio in cui vive. Ci sono troppe illazioni, troppe notizie che non sono spesso corrette, ci sono sicuramente dei problemi che vanno affrontati, ma vanno affrontati in modo razionale cercando di dare la soddisfazione a tutti i partecipanti, a tutti i vari stakeholders del territorio in un rapporto che sia molto franco, ma anche profittevole. Cinque anni di lavoro con un partenariato molto vasto. Nel territorio del parco da lei amministrato, la situazione rispetto alla biodiversità o alla presenza del lupo? Il lupo è una componente sicuramente importante della biodiversità, ma non è l'unica. È certamente molto appariscente e fa molto notizia, ma è un territorio talmente ricco proprio per la varietà climatologica e anche di altitudini, di pedologiche, eccetera, che ospita una biodiversità estremamente varia ed estremamente interessante. Direi quasi unica per certe versi, anche se molto poco nota.